Stai bene? È fuggito. E tu? E i soldati? Morti. Tutti. Ho visto il Vizir. O ciò che è diventato. È volato a palazzo. Sappiamo dove andare. Giusto. Ma sono un po'... Beh, bloccata. Sai come aprire questa porta? Comprendo le regole della cortesia. Ma ti stai facendo prendere la mano. Non si stai facendo. Chiudori. Non si stai facendo. Ah! Ah, ah. 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 Ah, ah.